E' il 77esimo di San Marino-Kazakistan quando Filippo Berardi entra di prepotenza nella storia della nazionale bianca-azzurra. Lunadei si inventa un filtrante d'esterno da manuale. Nepo Godov esce e il numero 7 lo aggira prima di depositare in rete una palla che dalla parte di San Marino non entrava da quasi due anni e da oltre sei in casa. Anche per questo lo stadium, forse incredulo, impazzisce di gioia. Tutti i compagni vanno ad abbracciare Berardi che diventa il sedicesimo marcatore diverso. Una scena bellissima e che rende orgogliosi i samarinesi di tifare la nazionale nonostante le sconfitte. K.O. che matura anche nel penultimo impegno delle qualificazioni ad Euro 2020 contro un Kazakistan che si rende pericoloso dopo pochi secondi. Mancino a giro di Zainudninov, Benedettini è chiamato al primo grande intervento. San Marino risponde subito, crossa la sotera di Berardi, carambola su Palazzi e palla di poco a lato. Dall'altra parte invece arriva l'1-0 Kazako. Sponda per Zainudninov, colpo di testa sotto misura del trequartista del Rostov e questa volta Benedettini si deve arrendere. Il terreno reso pesante dalla pioggia non aiuta ma i biancazzurri di Varrella si fanno ancora vedere in avanti, sempre con Mirko Palazzi. Destro dal limite Nepogodov respinge e poi chiude anche sul tentativo dei grandoni. San Marino crea il Kazakistan segna e lo fa due volte nel giro dei cinque minuti. Prima su Jumbayev si aggiusta il pallone sul Mancino e batte Simone Benedettini in diagonale. Poi Shetkin trova il gol del 3-0 con un colpo di testa sugli sviluppi di calcio d'angolo. Nel mezzo c'è spazio anche per il missile da fuori dallo stesso Shetkin, disinnescato da Benedettini. Gli uomini di Bilek sono ora padroni del gioco. Enrico Golinucci prova però a suonare la carica per i suoi ma la conclusione del centrocampista della Libertas è imprecisa. Ripresa ci prova il mio entrato Miroschnichenko, ancora Benedettini, ad evitare un passivo peggiore. Da qui i kazakhi abbassano notevolmente i ritmi e San Marino gioca all'arma bianca come predicato dal CT in conferenza e si affida al suo uomo di maggior qualità, ovvero Filippo Berardi. L'ala della Vibonese sfiora l'incrocio dei pali con un destro da posizione defilata. Poi il gol del 3-1 che vale la pena di vedere e rivedere. È la prima gioia in nazionale per Berardi, è il 24esimo gol della storia di San Marino. 800, tre giorni dopo quello di Palazzo in Azerbaijan. L'ultima istantanea del match è il gran sinistro di Suyumbayev fuori di pochissimo. Il kazakhistan passa quindi 3-1 ma sul titano si può comunque festeggiare. Grazie. Grazie. Grazie.